Eccoci di nuovo al punto qui a Telefriuli, questa volta abbiamo visto che la crisi si è risolta, si sta risolvendo il meglio per quanto riguarda il Partito Democratico, ma io ho voluto invitare il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Mauro Bordin, benvenuto capogruppo, tra sogni e realtà evidentemente o i sondaggi o qualche cosa, l'autogol di Salvini c'è stato, cosa ne pensi al capogruppo della Lega? Più che sogni in realtà credo che tutto sia nato dal fatto che noi avevamo un governo composto da forze politiche che avevano due filosofie e due modi di operare totalmente diversi, c'era un governo a trazione leghista, un governo in cui Salvini come Ministro e Vice Premier in qualche modo dettava l'agenda, correva mentre qualcuno in realtà non solamente camminava ma talvolta anche faceva passi all'indietro. Governare in queste condizioni, con litigi continui, con uno screditamento progressivo, cosa che è avvenuta soprattutto poi nel periodo europeo, con consigli di ministri che durano ore senza aggiungere una soluzione, con tantissimi no che venivano detti alle riforme che la Lega voleva portare avanti, con tantissimi no che venivano frapposti alla volontà della Lega e di Salvini di cambiare l'Italia in maniera radicale, di fronte a questo Matteo Salvini ha detto basta, noi non possiamo rimanere a lavorare in queste condizioni, noi vogliamo avere un governo che lavori in velocità, con determinazione, con forza e a questo punto ridiamo la parola agli elettori. Quello che evidentemente è stato sottovalutato da Matteo Salvini, dalla Lega e da tutti noi è la voglia di rimanere attaccati alla poltrona di chi in Parlamento oggi c'è e domani non c'è più Stato. Tra parentesi che il governo attuale dice che la Costituzione lo permetteva e per cui noi abbiamo portato avanti i prerogativi della Costituzione. Non è una questione di Costituzione o non Costituzione, è una questione di etica che può esserci o non esserci. Sondaggi peraltro, per completezza dell'informazione, dicevano che la gente voleva il voto, questo sì. La gente voleva il voto perché evidentemente era chiaro a tutti che Matteo Salvini e la Lega in qualche modo sono l'unico interlocutore che in questo momento può garantire riforme, può garantire cambiamenti, può garantire un futuro alle nostre famiglie, alle nostre imprese, ai nostri giovani. Però ricordo, credo che questo sia l'aspetto su cui bisogna focalizzarsi, al di là di quelle che sono le parole, le discussioni, che in questo momento il governo viene fatto da Movimento 5 Stelle e PD che fino al giorno prima, un'ora prima, si insultavano bellamente dalla mattina alla sera. Uno insultava l'altro perché era il partito di Bibiano, l'altro insultava l'altro perché erano incapaci, cioè c'erano insulti continui, attacchi continui e reciproci. Ebbene, da questi insulti continui, da questi attacchi reciproci continui si è arrivati ad un governo insieme e vogliamoci bene. Esatto. E chi è il Presidente, tra l'altro? Il Presidente è lo stesso Presidente che per un anno e mezzo ha governato con la Lega seguendo il programma della Lega e adesso diventa Presidente del Consiglio con il PD. Cioè, allora dico, l'etica, la morale, la dignità, l'orgoglio, la coerenza, dove sono in tutto questo? Sì, lei sa benissimo che Bismarck diceva che la politica è l'arte del possibile, ma qui siamo nell'arte dell'impossibile, secondo lei. E forse c'è la trappola già avviata con il voto che i 5 Stelle hanno dato in Europa. Perché mi pare che lì... è chiaro che lì si dimostrava già il fatto che c'era una intesa molto forte fra PD e 5 Stelle. E tutto quello che è successo, gli attacchi a Salvini, era il nemico numero uno dei 5 Stelle per l'europea. Cioè, per dire che in qualche modo era stato puntato per il semplice fatto che la gente si era accorta che Salvini governava e faceva quello che aveva promesso e riusciva a dare risposte ai cittadini e parlava con la gente, stanno tra la gente. Invece loro fondamentalmente erano arroccati su alcune posizioni che sono assolutamente anacronistiche, però arte dell'impossibile o del possibile. Io dico che la gente deve una volta tanto capire se quello che è successo è un qualcosa che può essere digerito e accettato dal punto di vista morale ed etico. Perché se noi continuiamo a dare per scontato che perché c'è la Costituzione che lo consente, uno può governare un anno con un partito e dopo fare un governo con chi la pensa in modo direttamente opposto e il Presidente del Consiglio rimane la stessa persona, se pensiamo che questo sia un qualcosa di eticamente, moralmente sostenibile, allora a questo punto l'Italia non ha futuro. Io invece sono convinto che i cittadini italiani sapranno discernere, i cittadini italiani sapranno capire che c'è qualcuno che in qualche modo per rimanere attaccato alla poltrona, per continuare a governare, per bloccare il cambiamento è disposto ad allearsi col peggior nemico. Ecco, siccome sono convinto che i cittadini questi lo capiranno, poi alla fine, nei prossimi tempi, quando finalmente la parola ai lettori qualcuno dovrà prima o poi darla, credo che gli elettori a questo punto sapranno dare un segnale. Ecco, comunque adesso bisogna vedere cosa farà il nuovo governo in tema di tasse, in tema di migrazione, che sono due cose molto, diciamo così, complicate da rivedere, però che cosa farà la Lega adesso? Allora, quello che faranno loro, sinceramente io non ho la sfera di cristallo, ma sinceramente dico, i 5 Stelle abbiamo visto un anno, qualche mese al governo, abbiamo visto quello che sanno produrre, obiettivamente poco e sinceramente la qualità dal mio punto di vista non è sinceramente eccelsa. Il PD l'abbiamo beccato al governo per decenni, molto spesso anche senza aver ottenuto un risultato elettorale eclatante, perché alla fine sono molto bravi a fare gli accordi di palazzo e abbiamo visto cosa hanno combinato. Siccome alla fine continuamente sono stati bocciati gli elettori, io non mi aspetto assolutamente niente, credo che anche gli italiani si aspettino ben poco da questo governo. Mentre per quanto riguarda la Lega, la Lega continuerà a parlare della gente, continuerà a stare tra la gente, continuerà ad ascoltare la gente, continuerà a capire che cosa oggi il cittadino si aspetta da noi e cercheremo di dare risposta. Lo stiamo facendo in Regione, lo stava facendo Salvini con i nostri ministri, i nostri sette segretari, adesso noi continueremo a farlo con ancora maggior forza e determinazione sui territori, perché vogliamo ridare non solamente all'Italia un governo forte, determinato, in grado di cambiare questo paese, ma vogliamo ridare all'Italia dignità, etica e morale, perché questi sono fondamentali. Tra pareti mi pare che voi tenete le commissioni, non vi dimettete, perché questo è una variabile diciamo così che il governo in carica o il neo governo non aveva messo nelle condizioni, no? Cioè, il Presidente del Commissione dice che noi non ci dimettiamo, noi rimaniamo al nostro posto. D'altronde, siccome siamo convinti che questo governo sia il male assoluto, sia quello che in qualche modo metterà ultimamente in ginocchio l'Italia, se pensano di poterlo fare bellamente senza nessun tipo di opposizione, se lo scordino, l'opposizione ci sarà e sarà durissima, fortissima, senza esclusione di colpi e con tutti gli strumenti che avremo a disposizione nell'ambito naturalmente della democrazia e della legalità. Ecco, senta, i contraccolpi qui in Regione quali saranno? Perché evidentemente le province elettive ve le scordate, cioè ce le scordiamo, perché mi pare che votare e eleggere è sempre bene. E poi ci sarà anche il famoso patto Stato-Regione che potrebbe essere in qualche modo le messe in discussione oppure no? Allora, ritornando al discorso dell'etica e della morale, se dovessero riuscire a mettere in discussione un patto, un accordo già stato fatto fra Stato e Regione, obiettivamente mi stupirei e veramente credo che saremmo aggiunti ai minimi termini. Io credo che in un momento in cui due istituzioni fanno un accordo, fanno un patto e il Filippo Venezia Giulia ha questo patto fatto dal Presidente Federica tra i numerosi vantaggi, dubito che venga comunque ridiscusso. Se dovessero farlo, troveranno comunque un'opposizione durissima, perché anche in questo caso si tratta veramente di una situazione inaccettabile, non si può rinegare ciò che è stato concordato, assolutamente. Poi per il resto è chiaro che qualche contraccolpo inevitabilmente ci sarà, l'informa di autonomia locale, sicuramente dovremmo valutare che cosa fare, perché evidente che qui... Una strategia nuova, evidentemente. Sì, probabilmente qualcosa dovremmo trovare di nuovo, rivedere un po' la posizione. Su altre questioni è logico che il rapporto che c'era in qualche modo aiutava, però è altrettanto vero che noi in questo momento abbiamo in Filippo Venezia Giulia amministrato con le nostre risorse, con le nostre forze, con i nostri uomini, con un Presidente che è ancora più più gasato di prima, che ama anche lui stare fra la gente, ascoltare, credo che tante risposte siano state date. Se parliamo ad esempio del trasporto pubblico locale, scolastico, extraurbano con abbonamenti annuali ridotti del 50%, visto che adesso inizia la scuola, è una misura totalmente a carico del bilancio regionale, così come la gironina gratuita del secondo figlio in poi, così come tantissimi investimenti o misure. Mentre la sanità però ha bisogno di risorse. Però anche la sanità noi ce la gestiamo con le risorse nostre. Però avrebbe bisogno di risorse, lo Stato dovrebbe... Dipetto, da questo governo mi aspetto poco, però siamo una regione comunque forte, una regione che ha sempre dimostrato di saper governare con i propri uomini e con le proprie risorse. Anzi, talvolta siamo stati eppure troppo virtuosi, perché mentre qualcuno magari ne ha approfittato a livello di altre regioni, noi invece abbiamo cercato sempre di fare con quello che abbiamo. Lo spirito friulano è sempre stato insito in noi e rimarrà naturalmente. Per cui da questo punto di vista la nostra operatività non credo avrà grosse difficoltà, perché noi comunque andremo avanti con determinazione nelle nostre politiche per le famiglie, per le imprese, per il mondo dell'associazionismo, per il mondo del volontariato, per la riforma della sanità, che vi teniamo moltissimo, riforma delle mie locali. Noi andremo avanti comunque come treni, senza problemi. Adesso ho visto che state leggendo, avete letto il presidente dell'Anci, mi pare con cento firme, quindi è l'unico candidato, ma mi pare che l'elezione ha concorso in maniera molto, si dice, significativa per un eufemismo molti amministratori di sinistra. Il candidato che in qualche modo è stato proposto è una persona di qualità, autorevole, rispettato, apprezzato, che tra l'altro ha già un rolling Anci, e quindi quando ci sono queste caratteristiche è normale che poi il sostegno venga in modo trasversale, perché ci possono essere le battaglie politiche, le battaglie politiche le facciamo sulle riforme, ma nel momento in cui si tratta di nominare il presidente e gli organi di vertice di un'associazione come l'Anci, che deve essere un organo attento alle esigenze degli enti locali, è chiaro che a questo punto la qualità della persona, dell'amministratore, del sindaco che si propone prende il sopravvento. Quindi il fatto che la sua candidatura sia stata sostenuta non solamente dalla Lega, ma da tantissimi sindaci del centro-destra, del centro-sinistra, civici, di tutte le espressioni politiche, credo che questa sia una dimostrazione che veramente è un candidato che unisce, un candidato che nasce da un consenso molto ampio che va al di là del partito di appartenenza. Ecco, restiamo sempre in tema di enti locali, lei pensa che il dibattito possa iniziare a breve, perché onestamente è passato molto tempo, un anno è qualcosa, il rondaggio è finito, adesso c'è anche questa questione del governo che non è più amico, ma dovrà iniziare questo dibattito sulle nuove aree vaste o province speciali, a quello che è. Lei come capocupo della Lega, cosa mi dice? State elaborando una strategia e se è quale? Perché qualcuno dice Friuli e Trieste, qualcuno dice questa provincia, poi Gorizia dice di no, ma Portenone dice ma dobbiamo aspettare l'annessione, com'è la situazione? Questa è una cosa che io credo che possa dare molta soddisfazione anche agli amministratori, se ci mettono la naso. Diciamo che noi siamo pronti per mettere i fari in acqua, la settimana prossima abbiamo martedì un incontro di capigruppo di maggioranza con l'assessore Riccardi e mercoledì un incontro di capigruppo di maggioranza con l'assessore Roberti, sono due incontri che sono fondamentali per andare ad approfondire i contenuti delle due riforme, quindi autonomia locale e sanità, due incontri con i quali i capigruppo di maggioranza comunque rivendicano il ruolo del Consiglio, della maggioranza consigliare e vogliono quindi in qualche modo dare un aiuto, un supporto agli assessori in queste importanti riforme, quindi in queste settimane sicuramente si delineeranno nel più nel dettaglio e poi ci sarà anche comunque il percorso di condivisione che abbiamo sempre deciso di fare perché non vogliamo calare dall'alto nessuna riforma, vogliamo condividerla e quindi credo che i prossimi mesi da questo punto di vista saranno importanti e determinanti. Salvini mi pare che ha convocato un'assemblea, anzi ha convocato la piazza per il 19 ottobre a Roma, quindi state organizzando anche questo incontro che in qualche modo dovrà essere forte perché il flop sarebbe un po' un problema. Non abbiamo dubbi sulla partecipazione della gente perché noi abbiamo gente che ci chiede già di partecipare a tutti gli eventi che fa la Lega, noi abbiamo comunque il 15 settembre Pontida e per quanto riguarda Pontida già in provincia di Udine si sta lavorando per una seconda Corriera dopo che la prima di 80 posti è già piena e quindi ci sono già domande nuove in lista d'attesa. Poi il 21-22 c'è una gazebata che faremo in giro per i territori, per il tesseramento e comunque per spiegare alla gente quello che è successo e poi ci sarà la grande manifestazione di ottobre in cui il popolo della Lega si ritroverà a Roma per manifestare in maniera democratica come sempre quelle che sono le nostre opinioni, la nostra contrarietà a questo inciucio che si è creato a livello governativo. Ricordo una cosa che la Lega è andata in piazza tantissime volte, l'ha fatta sempre con tranquillità, sernità, non ha mai creato nessun tipo di problema, le piazze sono state lasciate sempre pulite, mai rotto una vetrina, mai creato un danno, mentre molto spesso coloro che ci attaccano definendoci fascisti o tutti gli epitodi che vogliono indovivare contro di noi sono proprio quelli in cui i sostenitori talvolta non sono così... Senta, è l'ultima domanda, abbiamo suonato molto, ma comunque una domanda che devo fare. Un vostro consigliere regionale, Slocar, mi pare che ha fatto un'affermazione forte, dice ma dovremmo tornare nei boschi a sparare ai fascisti del PD. Lei come interpreta questa? In una maniera così provocatoria, un'era goliardica oppure perché ha creato un segno, so che il segretario del PD, Sauli, si è in un momentino molto... Allora, Danilo Slocar ha già chiarito naturalmente la portata di questa sua affermazione, tra l'altro da capire se esattamente in questi termini o meno... Come è stata riportata? Perché poi chiaramente è stata fatta all'interno di una festa della Lega con alcune persone che è grata fra amici e può capitare naturalmente la frage di più o meno, la goliardia eccetera eccetera. Io credo che quello che conta siano i fatti. Né Danilo Slocar, né la Lega hanno mai compiuto nessun tipo di atto di delinquenza, nessun tipo di atto eversivo, nessun tipo di atto di questo tipo. Ribadisco molto spesso che loro che in questo momento ci attaccano hanno tra loro fila, tra i loro amici, tra i loro sostenitori persone che in realtà in altri tempi si sono comportate molto diversamente. Non tanto magari in Florenza Giulia, dove devo dire la verità, siamo una regione molto virtuosa e attenta al rispetto delle regole, ma pensiamo alle varie manifestazioni che sono state in giro per l'Italia e che cosa è stato fatto nei tempi. Ecco, non credo che quelli fossero leghisti. Bene, allora grazie per questa chiacchierata molto interessante con il capogruppo Mauro Bordin della Lega qui in Consiglio regionale. Naturalmente tornerà per darci gli eventi e le strategie che la Lega metterà in stato. Grazie a voi, grazie dei messaggini e grazie anche dell'affetto che ci date sempre. Ringrazio la regia, ringrazio anche gli studi di Telefriuli. Naturalmente alla prossima.